Musica Ben ritrovati con una nuova edizione del TG Venezia. Apriamo questa edizione come ormai di consueto con l'ultimo aggiornamento emesso alle 8 di questa mattina da Zenda Zero in materia di contagi. Il bollettino coronavirus di oggi, venerdì 2 ottobre, riporta 136 nuovi casi di contagio in Veneto, dei quali 26 in provincia di Venezia. Salgono così a 668 i positivi nel nostro territorio, la maggior parte dei quali asintomatici, mentre in regione il numero tocca quota 4.027. Sono attualmente 263 i pazienti ricoverati negli ospedali veneti, dei quali 189 positivi, 22 gravi e 74 negativizzati, di cui 7 in terapia intensiva. In provincia invece sono 21 le persone in cura all'ospedale di Dolo, 2 dei quali gravi, 9 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia, 1 nel reparto di terapia intensiva, 16 all'Angelo di Mestre e 1 a Mirano. I contagi aumentano, le scuole fanno fatica a coniugare la continuatività della didattica con il rispetto dei protocolli di sicurezza e Zaia prende provvedimenti. Nel corso del punto stampa odierno dalla sede della protezione civile di Marghera, il Presidente del Veneto ha annunciato la firma di una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di domani, sabato 3 ottobre, finalizzata a gestire in modo più agile la presenza di eventuali criticità e positività legate al coronavirus nelle scuole di ogni ordine e grado. Nei prossimi giorni i genitori saranno forniti dei moduli che autorizzeranno i figli a sottoporsi alla nuova modalità di screening intramenia in caso di necessità. Due dunque le principali novità introdotte dall'ordinanza. I tamponi rapidi verranno effettuati direttamente a scuola e nel caso in cui i compagni dell'alunno positivo dovessero risultare tutti negativi, le lezioni continueranno normalmente senza l'obbligo per il resto della classe di quarantena. E in età scolare è anche E.A.N. La ragazza diciottenne residente a Mirano che dopo aver conosciuto un uomo del Padovano tramite subito il noto sito di compravendite, ha iniziato con lui una conoscenza virtuale basata su conversazioni via WhatsApp. Fin dall'inizio la relazione aveva assunto tratti per così dire poco limpidi. Infatti alla richiesta della giovane di compenso per trascorrere del tempo insieme, l'uomo sposato non si era tirato indietro o perlomeno non inizialmente. Si era infatti successivamente pentito comunicando alla ragazza di voler troncare la conoscenza. In quel momento sono iniziate però le minacce di rivelare tutto alla moglie dell'uomo. Prezzo del silenzio, 1000 euro da abbandonare in un cestino indicato dalla giovane. La bussa sarà consegnata nelle modalità prestabilite, ma non soddisfatta, la ragazza continuerà a minacciare l'uomo di smascherarlo, iniziando anche a chiamarlo sempre più di frequente. A quel punto l'uomo decide di rivolgersi ai carabinieri, che alla seconda richiesta di denaro da parte della giovane fanno scattare la trappola. Esattamente come era avvenuto la prima volta, l'uomo lascia la bussa contenente il denaro nel cestino, che dopo poco la ragazza va a recuperare. Ma questa volta, apposati ad osservare la scena, c'erano i militari dell'arma, che una volta intervenuti hanno arrestato per estorsione aggravata la ragazza, che al momento si trova agli arresti domiciliari. I successivi controlli hanno permesso ai carabinieri di verificare come la 18enne avesse effettuato con la prima tranche del denaro un pagamento elettronico per l'acquisto di una patente di guida. Condannato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione per un anno, otto mesi e nove giorni di reclusione, anche Lino Maritan, ex della Mala del Brenta e fratello di Silvano Maritan, attualmente detenuto per omicidio. A notificare l'ordine all'uomo sono stati ieri pomeriggio i carabinieri di Sandona di Piave su disposizione della Procura di Venezia. La condanna era stata patteggiata nel 2014 nell'ambito dell'indagine LACI condotta dal nucleo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia per acquisto, trasporto e smercio nel settembre 2012 di un chilo di cocaina acquistata a Ro, Milano, per la cifra di 40 mila euro. L'operazione aveva portato all'arresto di 13 persone, membri o fiancheggiatrici di un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti che raggiungeva tutte le piazze venete e che acquistava la droga da cittadini calabresi orbitanti nel territorio milanese. Le indagini dell'epoca avevano individuato proprio nei fratelli Maritan i finanziatori dei traffici di stupefacenti, nonché vertici dell'organizzazione. Passiamo ora all'ultima notizia di oggi. Verso le 9.20 di questa mattina, un incendio si è verificato al terminal intermodale Venezia di Porto Marghera, mentre una gru Gotwald stava procedendo alle operazioni di sbarco del carico su una motonave Container K-Stream. Il rogo ha interessato il molo A di Via del Commercio, fortunatamente non ci sono stati feriti. Stando a quanto riportato dai vigili del fuoco giunti sul posto, le cause sono probabilmente da attribuire al surriscaldamento di alcune parti del mezzo meccanico, unito alla presenza di gasolio e olio idraulico. Le operazioni di completa estinzione e messa a sicurezza della gru sono terminate dopo circa due ore. E anche per oggi è tutto, vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV 24 e vi auguro una buona visione.